Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi abbiamo preparato per voi un video particolare e molto speciale, dedicato a uno degli argomenti più interessanti nella vita spirituale, i 4 strumenti per affrontare la battaglia spirituale. Ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Il primo strumento è la preghiera. Non c'è niente di più potente della preghiera per combattere la battaglia spirituale. La preghiera è il nostro collegamento diretto con il Divino, è il modo in cui possiamo comunicare con Dio e chiedere la sua protezione e guida. La parola di Dio. La parola di Dio è come una spada a doppio taglio che può travolgere qualsiasi situazione spirituale. Quando siamo immersi in una battaglia spirituale, la lettura e la meditazione sulla Bibbia possono darci la forza e la saggezza per superare gli attacchi del nemico. Il digiuno. Il digiuno è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione per la battaglia spirituale. Quando digiuniamo, ci priviamo di qualcosa di fisico per dedicarci alla preghiera e alla ricerca di Dio. La comunità spirituale. Infine, la comunità spirituale è fondamentale per affrontare la battaglia spirituale. Non siamo soli in questa lotta, ma siamo circondati da altri credenti che possono sostenerci e incoraggiarci lungo il cammino. Questi sono i quattro strumenti per affrontare la grande battaglia spirituale. Bisogna avere molta fede e credere in ciò che si sta facendo. Grazie per averci seguito. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere mi piace a questo video. Grazie a tutti.